Non hanno minimamente domandato quanto potranno ricevere eccetera, quello che loro vogliono è proprio che venga stabilito che questi loro congiunti sono deceduti non per cause naturali ma proprio perché sono stati esposti all'amianto. Saranno presentate entro fine mese in tribunale e ad Arezzo altre due richieste di risarcimento per i casi di sospetto amianto killer. La vicenda è quella relativa alla SACFEM, storica industria retina dove per anni si sono costruiti vagoni per treni utilizzando anche fibre di amianto. Le consulenze chiaramente del medico privato mettono in relazione la malattia, il decesso con la lavorazione dell'amianto che il soggetto ha per tanti anni effettuato anche avvalendosi di quelle che sono per esempio tutta la documentazione in AI perché quasi tutti questi soggetti sono stati riconosciuti come soggetti ad infortunio sul lavoro e gli è stato riconosciuto un assegno mensile. A presentare le richieste familiari di due ex operai deceduti a causa di un mesotelioma pleurico nel 2016 e nel 2017 a 83 e 75 anni. Entrambi lavoravano a diretto contatto con l'amianto, uno come saldatore, uno come operaio ma per esempio era addetto a scrostare, a graffiare, a togliere proprio l'amianto in sovrappiù quindi a limarlo eccetera, quindi respirava senz'altro polvere d'amianto.